E' stato uno dei pionieri della FGC, la cosa che ha detto prima Gentili, ho vissuto proprio l'esperienza di Eugenio Curielle che era stato il segretario nazionale della loro fronte della gioventù, così si chiamavano i giovani comunisti, poi sono diventate FGC e quando dovevamo decidere come intitolavamo il nostro circolo, perché c'erano i circoli dei giovani e le sezioni di meno giovani, decidemmo proprio di intitolarlo Eugenio Curielle, proprio quei passaggi sono stralci di cose importantissime. Parliamo di un quadro giovanile di un partito che erano 20.000 iscritti nel partito comunista clandestino, nel subito dopo guerra il partito ebbe un boom spaventoso, positivo chiaramente, dei 2 milioni di iscritti. Pensate, un partito che si deve adeguare da un partito clandestino a un partito adeguato e di massa con tutta la strutturazione che è necessita. Ed era in quel momento distribuito a livello nazionale, a livello nazionale, dal sud fino al nord, insomma, un partito di massa diffuso quindi nelle campagne, nelle fabbriche e in tutti i luoghi, nei quartieri popolari, con tutte poi le organizzazioni che sono state determinanti dei vari settori, non solo quelle chiaramente sindacali, quindi con grande guida dell'altra gamba che aveva di Vittorio, che è fondamentale per un partito comunista avere un sindacato di classe e di massa e dell'allora di Vittorio. Ma l'elemento che noi abbiamo, che è stato l'elemento che poi tutti i compagni anche nel libro è necitato, insomma, sono quei vent'anni di segreteria di Togliatti con i due passaggi strategici, perché si sono strategici, della svolta di Salerno e del partito nuovo. Qui non c'è nulla di tattico, ma anche la stessa Costituzione va letta in maniera strategica, cioè non è una scelta tattica. È chiaro che la democrazia progressiva ha la funzione di costruire un percorso proprio passando dagli elementi importanti di quel compromesso storico, quello sì, che fu la Costituzione Repubblicana. Quello è stato il primo compromesso storico, perché poi ci sono pure alcune cose che ci piacciono di meno, insomma, non è che c'è stato tutto, tutte cose, elementi, articolo 7, insomma, famigerato o altre questioni. Quindi noi su quei passaggi lì Togliatti ha segnato questo percorso quindi della via italiana al socialismo con questi elementi, in particolar modo con la prima parte della Costituzione, che ha segnato chiaramente una svolta radicale. Parlavamo che si usciva dal fascismo, parlavamo che si usciva dalla monarchia, quindi chiaramente erano segnate col ventennio, ma non solo col ventennio, insomma, anche con tutto l'ordinamento del Regno d'Italia, elementi reazionari e comunque antipopolari. Quindi io credo che quei passaggi lì, insomma, e quindi la Costituzione è il segno proprio di tutto quello che poi oggi noi viviamo. Viviamo una situazione drammatica, al di là della vittoria del 4 dicembre di due anni fa, insomma, ma quello è stato un colpo finale a questo. Noi abbiamo avuto sostanzialmente una scelta importantissima, no? Che fece il segretario, ma tutto il partito, insomma, con tutti i suoi organi dirigenti, no? Di dispiegare in tutta Italia, nei vari settori, un'offensiva, un'organizzazione tale da rafforzare e applicare quindi la Costituzione. Diversamente da Salini che la sua Costituzione sostanzialmente non la vedeva come programma, perché quella Costituzione erano già a determinate, no? La rivoluzione stessa, insomma, la gestione chiaramente dello Stato sovietico, è chiaro, no? Quindi non era un elemento di andare a verifica, tra virgolette. Era un passaggio, insomma, un punto fermo. Mentre quella italiana era un elemento proprio programmatico, no? E questa cosa fu un compromesso importante, ma questo compromesso poi cozzò con lo scontro delle classe che subito dopo poi la Costituzione arrivò al 48, no? Ma arrivarono poi la democrazia cristiana foraggiata dagli americani che chiaramente si scontrarono fortemente, no? Con tutta l'organizzazione del partito. Solo la questione meridionale, no? La questione meridionale, no? La questione dice, cioè, la strage purtroppo di Salvatore Giuliano, no? L'elemento americano che c'aveva sulla collina a bandiera degli Stati Uniti, no? Non parlo solo quella, quella fu la situazione drammatica, fu il sangue, no? Però loro nella Costituzione si parla del sostegno ai coltivatori diretti, per esempio. La DC, no? Si organizzò con i coltivatori diretti e vi ricordate, insomma, che c'era un famoso dirigente della democrazia cristiana che ormai aveva il suo ambito, no? Clientelare. Quindi, ma ne... Eh? Eh sì, certo, vi ricordate lo slogan per chi, insomma, ha un po' più d'età con Bonomi e col governo, la agricoltura va all'inferno, cioè ovviamente era uno slogan dei comunisti questo. Ma non solo questo, ma anche l'emigrazione al nord, quindi che portò ovviamente lo scontro tra gli operai, ovviamente voluto dalla borghesia, no? Dalla Fiat e da altri, degli operai, no? Con i nostri fratelli migranti che arrivavano con le famose borse di cartone, no? E loro giocavano a dividere, no? Un po' come oggi si fa con gli immigrati, insomma. Quindi si determinò poi tutta quella enorme logica di clientelismo spaventoso, parliamo proprio di spaventoso, riempito i ministeri, l'amministrazione pubblica, no? De molti del sud, non solo, insomma, come diciamo spesso la polizia, no? Che poi menava operai, no? Ma proprio i ministeri, eccetera, eccetera. Quindi ci fu un grosso lavoro enorme per ridurre fortemente, insomma, l'azione del partito, no? Nella diffusione, insomma, dell'organizzazione dal nord al sud e la questione meridionale per noi è stata sempre un elemento difficile, no? La risposta anche con la Cassa del Mezzogiorno, no? La dice lunga, no? Un'operazione enorme, sempre qui parliamo dei miliardi, no? Dati e poi oggi se andate a Pomezia, no? È una cattedrale del deserto, no? Perché è mai finito tutto, ma non è solo la crisi oggi, partita dal 2007, quelle sono chiuse da 25 anni, cioè quindi proprio stata un'operazione clientelare dove si sono spostate le aziende che sono state premiate con dei soldi, no? E poi hanno chiuso, cioè quindi ovviamente fregandosene di tutti gli operai e di tutte le maestranze che c'erano dietro. Ma l'elemento che noi leggiamo proprio della Costituzione, no? Oggi è proprio nel momento in cui noi ci troviamo, no? Alla caduta dell'Unione Sovietica, allo scioglimento del Partito Comunista. Quell'89 maledetto, no? E quindi è importante discutere, insomma, del Partito Comunista, della figura di Togliatti, ma anche dell'Unione Sovietica. Noi l'abbiamo rimossa, no? Noi in senso lato, in senso non abbiamo approfondito in maniera chiara e netta, no? Con dibattito serio, no? Le modalità, no? Con cui si è arrivati a quello. Comunque, un dato di fatto, no? Se vogliamo essere i ragionieri, è che con lo scioglimento del Partito Comunista e con la caduta dell'Unione Sovietica, in Italia, no? I suoi eredi ex comunisti, no? Si sono sostanzialmente piegati a tutte le logiche che prima nemmeno la democrazia cristiana aveva potuto fare per il marcamento sociale e politico di un Partito Comunista di massa. Le guerre, le privatizzazioni, la disarticolazione del lavoro, no? Ricordiamoci che fu Trevo il primo, no? Poi a Filotto arrivarono tutti gli altri, eccetera, eccetera, no? Fu D'Alema a fare la guerra in Serbia. Cioè, no? Parliamo di gente che, insomma, erano dirigenti del Partito Comunista, no? Allora. E via dicendo. Le privatizzazioni che nella Costituzione e nell'intervento del segretario per Milo Togliatti alla Commissione parlava con chiarezza che invece andavano ovviamente pubblicizzati tutti i servizi strategici, tutti i servizi strategici, dall'acqua all'energia alle telecomunicazioni e via dicendo, no? Quindi invece dopo, no? Come? Frana tutto. Frana perché non c'era chiaramente un Partito di massa, non c'era più un Partito Comunista, con tutte le critiche che noi gli possiamo fare, agli errori che sono stati fatti, ma è naturale che si fanno degli errori. Però questo è quanto. E oggi la Costituzione, no? È calpessata in maniera drammatica anche nella seconda parte. Perché, insomma, ne vedremo proprio prossimamente gli effetti. Mettere l'articolo 81 col pareggio di bilancio compagni, è una cosa drammatica. È drammatica perché l'applicazione del fiscal compact che dovrebbe essere da qui a poco, no? Sarà una situazione epocale di disastro e di masselleria che va oltre quello che voi avete visto oggi, no? Che nei confronti, parleremo di almeno 20 anni di finanziari o tali da poter determinare finanziari da 55-60 miliardi l'anno. Cioè, è chiaro che non le tolgono mica le spese militari. Anche questa era una cosa importante che il segretario mise con chiarezza, no? Nella Costituzione, no? Quell'articolo 2011 che invece, insomma, l'hanno calpestato, lo stanno calpestando. Tutti gli anni 25 miliardi siamo arrivati a dare alle spese militari, quindi a portare morte, no? E poi a portare anche le bombe. Perché poi i privati si ingrassano con i miliardi, no? Che di esportazione delle bombe che poi uccidono, insomma, il popolo iemenita, insomma, siriano e via dicendo. Le questioni importanti poi sono state chiaramente questi elementi che possa, che io credo che la democrazia progressiva e quindi la democrazia italiana deve ringraziare il partito comunista proprio per quello che si è determinato. È chiaro che l'elemento che c'era allora era Ialta. Era la divisione e quindi, come è stato anche qui detto, la battaglia per il superamento dei blocchi era fondamentale perché era un tappo. Non scordiamoci i fatti di Grecia. Non scordiamoci che stanno dall'altra parte del tirreno migliaia di compagni trucidati, no? Nonostante che erano la maggioranza per poter istituire un governo comunista in Grecia, no? E purtroppo, no? Poi se andiamo più lontano, però vabbè, insomma, ne abbiamo di storia, no? L'Indonesia, lì parliamo dei milioni di morti, ma non mi voglio allontanare tanto. Quindi la questione dell'articolo 11, insomma, è veramente vergognosa oggi. Ma è anche vergognosa, pensate, anche la questione dell'articolo che considera la possibilità di aprire le scuole cattoliche private ma senza oli per lo Stato. Ma la DC non ha mai dato un euro pubblico e quindi l'ha tolta le scuole pubbliche per darle alle scuole private. È solo dopo lo scioglimento del Partito Comunista, dopo chiaramente l'89, si comincia a dare i soldi e si continua ancora a dare i soldi, no? A scuole che non ci hanno bisogno. Cioè, perché la scuola multietnica, la scuola di tutti, la scuola di tutti è quella pubblica, no? Cioè, qui ci possono non sa tutti. Poi se i ricchi si vogliono mandare i figli da un'altra parte, se li pagano. Questo è l'elemento che è costituzionale. Ma anche questo è calpezzato. Anche questo è calpezzato. Ma i primi a darla sono stati gli eredi, gli ex. Non sono stati i democristiani, eh? Cioè, non sono stati il Partito Volare, la Margherita, eccetera. No, sono stati gli ex. Quindi capite che vuol dire arrivare al potere però svilendo e disarticolando chiaramente la spira dorsale, no? Di quello che è, insomma, la prospettiva di costruire un cambiamento, no? Di questa società. E oggi stiamo leccandoci le ferite anche di questo. Ma stiamo leccandoci le ferite proprio del senso del partito, compagni. Cioè, noi ci siamo trovati, almeno io quando stavo, 12 anni fa, insomma, nel partito della rifondazione comunista, a vivere situazioni, cioè, dentro un partito quasi democristiano, no? Il correntismo, cioè Bertinotti disse, qui non si fa sintesi, no? Io, se prendo il 51%, insomma, c'è il maggioritario. Prendo tutto. Questo è stato un elemento. Poi, di rifondazione non si è mai parlato, perché è stata la sommatoria dei correnti che si sono costituite nel momento in cui, insomma, si è creato il movimento della rifondazione comunista fino al partito, quindi Idroschisi, SDP, PC, tutto. E questa è rimasta così tale. Tale è rimasto così. Quindi è ovvio che la sconfitta, il traghettamento alla sconfitta drammatica, perché mancando un partito comunista organizzato, no? La sconfitta è di tutti, in primis dei militanti come noi che sono conseguenti e ancora ci credono, no? Ma è più che altro delle masse popolari. Quindi è stato un elemento che ha pesantemente disarticolato la difesa, anche sulle scelte, anche, non c'è più di vittorio, chiaramente, ma anche sulle scelte del sindacato, non è che possiamo solo di... che è una parte solo del... cioè il partito dei lavoratori, ma anche quindi il sindacato ha determinato. Quindi questo ha lasciato scoperto e ci lascia scoperto oggi, scoperti oggi, davanti all'attacco dell'avversario. L'avversario, quando ti vede debole, ti spinge con la testa sotto. Cioè se piglia tutto, se riprende pure con gli interessi, anzi peggiora ulteriormente la situazione. Quindi credo che la figura di Togliatti, ma anche quella dell'Unione Sovietica, ma anche quella del Partito Comunista, va studiata e va rilanciata. Non è nostalgia, chiaramente, ma è intelligenza politica e capacità di leggere, anche criticamente, no? La situazione. Perché se non si ricostituisce un Partito Comunista nella situazione data, ovviamente, del terzo millennio, per un socialismo del terzo millennio, noi non andiamo da nessuna parte. Facciamo convegni, è importante farli perché la discussione è il sale proprio della ricerca e anche delle soluzioni, però chiaramente ne pagheremo uno scotto come lo stiamo già pagando, perché anche in questa democrazia borghese, no? In questo Parlamento, da un po' di tempo non ci sono più i comunisti prestati a stare lì per la grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.